Al Belli di Roma la trasposizione teatrale di Che fine ha fatto Baby Jane? Grande successo cinematografico di Robert Aldrich nel ruolo che fu di Bette Davis, Sidney Rome. Sentiamo Stefania Giacomini. Io sono Baby Jane Hudson. Eppur ritornano Sidney Rome nei panni di Baby Jane. Alla Teatro Belli, prima soluta mondiale della versione teatrale, con regia di Antonio Salines, di Che fine ha fatto Baby Jane, celebre film del 1962 diretto da Robert Aldrich. E' interpretato da Davis e John Crawford, basato sull'omonimo romanzo di Henry Farrell. Lo spettacolo, seppur con tempi diversi da quelli cinematografici, interessa il pubblico per la capacità espressiva della protagonista Sidney Rome, attrice americana in Italia dagli anni 70. Diversi film al suo attivo, l'ultimo nel 2010, ne Il figlio più piccolo di Pupiavati con Laura Morante e tanti varietà televisivi. Ma molti di noi la ricordano sull'onda del successo negli Stati Uniti di Jane Fonda per aver lanciato nel 1983, in tutta Europa, corsi di ginnastica aerobica. Io cercavo di dirlo in vano che io non avrei mai potuto fare una cosa del genere, specie a mia sorella. Qui la ritroviamo nei panni di un'anziana ex attrice prodigio, Baby Jane, che deve avere cura della sorella Blanche. Una volta anche lei attrice di successo, ora paralizzata per un incidente, interpretata dalla brava Francesca Bianco. Fatto che lega le due per sempre e che sarà fonte di dolore e sorprendente verità. Validi anche Fabrizio Barbone e Asciai Lombardo Arop. Pies dalla dorata atmosfera anni 60, anche con le scene e i costumi di Maurizio Varamo, e che ha reso visibile la prigione dorata in cui si sono rinchiuse le due donne, per paura di dirsi la verità. Grazie per la visione!